Amici di Stylish ben ritrovati eccoci ad una nuova puntata di professione medicina qui con noi oggi Erdi Scino di Mirabella Eclano grazie Erdi per essere qui con noi grazie a voi per avermi dato l'opportunità e accolto la mia testimonianza un pochino triste allora Erdi è qui con noi perché è venuto a testimoniare e a raccontare un'esperienza che lo ha colpito da vicino protagonista di questa storia è il padre di Erdi che purtroppo è venuto a mancare pochi giorni fa andiamo per gradi e lascio il racconto ad Erdi Erdi allora raccontiamo un po' che cosa è successo quanti anni aveva papà allora tutto ebbe inizio inizio tra agosto settembre dove mio padre cominciava ad avere piccoli sintomi sintomi di nervosismo che si grattava dopodiché comincia a effettuare prima analisi visite dove risultano tutte tutte positive senza alcun problema però nel frattempo comunque giorno per giorno perdeva quelle piccole azioni quotidiane aveva delle confusione perdeva anche la parola cioè non parlava fluente delle volte si dimenticava anche di parlare italiano parlando continuando a parlare albanese dato che noi siamo di origine albanese quindi per questo Erdi scusami se ti interrompo sottolineiamo al nostro pubblico che tuo papà è venuto a mancare per una malattia molto rara è una malattia di Crestful Jacob disease una malattia da prioni caratterizzata dal deterioramento progressivo della funzione mentale che porta quindi a una demenza una contrazione muscolare tutti i sintomi che apparentemente quindi potrebbero essere associate a tante altre malattie esattamente esattamente infatti da ottobre novembre dicembre il mio padre effetto delle visite un pochino più specifiche con neurologi psichiatri però a loro come primi sintomi sembrava mezzo ictus oppure una forma di demenza ma ancora non capita tuo padre quanti anni aveva compiuto marzo 59 anni quindi giovanissimo esattamente Erdi tu credi che questa malattia purtroppo non abbia di scampo perché è una malattia che consuma insomma la persona e quindi possono insomma venire a mancare dai cinque mesi al massimo due anni esattamente ecco da ciò che si dice tra medici dottore altre ricerche che ho effettuato anch'io personalmente perché una volta capito che mio padre non stava bene cercavo tutte le occasioni o possibilità che potesse avere di capire e comprendere la malattia magari una soluzione se ci fosse ma i medici quando lo visitavano a cosa hanno pensato prima di tutto a un ictus giusto come tu hai detto inizialmente come se il papà avesse avuto un ictus poi con altre visite dubitavano come se fossero una sorta di demenza ma dalle analisi risultava tutto ok Quanto è stata dura la circostanza attuale tuo padre è ammalato ricoverato in ospedale è buono che non potevate vederlo a causa del covid infatti è stata abbastanza dura e difficile da accettare la prima volta fu ricoverato il 16 febbraio io dice il 16 effetto un tampone proprio per andarlo a trovare 17 mi arrivano i risultati ma nel frattempo già ero in viaggio nell'attesa arrivo in ospedale e cerco in tutti i modi magari di poterlo andare a trovare perché prima in precedenza non c'era possibile dato che la moglie ci vietava tutto anche di sapere come erano le sue condizioni salutari mi rego in ospedale in ospedale a parte il fatto che non mi fanno entrare ma non potevo neppure sapere le condizioni dato che la moglie aveva fermato e che noi potevamo sapere nulla dai delle colpi a qualcuno al sistema sanitario allora colpe non posso colpevolizzare o giudicare nessuno perché purtroppo ognuno deve fare il proprio mestiere però magari a livello burocratico a livello sanitario determinate situazioni vanno gestite in maniera differente con più cautela più con più urgenza avete avuto problemi nel prenotare le visite specialistiche quanti giorni sono passati insomma purtroppo di questo di questo non ne sono a conoscenza perché sono stato tagliato fuori tagliato fuori da tutto se avessi saputo in precedenza magari potevo fare qualcosa in più magari stare vicino accanto al mio padre giorni migliori lo vedevo tramite la videochiamata neppure standoci vicino sempre per via del cod perché lui fu ricoverato per la seconda volta il primo marzo fino all'otto aprile lanciamo un appello l'appello è di approfondire la ricerca di questa malattia di capire da prima può magari fare delle idee dell'analisi precise dettagliate da fin da subito in maniera tale che non deve aspettare l'eternità per poter sapere la malattia o ciò che le aspetta perché così breve tempo non c'è neanche il tempo di salutarlo perché poi non te lo ritrovi più e voglio infatti sottolineare che la malattia di Crescol Jacop è denominata come morbo della mucca pazza esatto quindi è una malattia molto rara che colpisce prettamente gli animali da questo punto di vista però poi ha preso diffusione anche verso l'uomo quindi per il medico legale che ci ha raccontato in 40 anni di esperienza era il decimo caso la malattia può insorgere spontaneamente geneticamente può essere anche ereditaria però da quello che mi risulta tutta la nostra famiglia stiamo bene di salute possiamo avere altro ma non questo quindi poi successivamente può essere anche acquisita mangiando manzo o prodotti a base di manzo e non solo si può anche acquisire con trasfusioni con trasfusioni o addirittura con assumendo delle proteine per l'infertilità insomma è una storia triste questa che ci hai appena raccontato però mi auguro che la ricerca nel campo sanitario e medico soprattutto qui in italia possa essere sovvenzionata quanto più possibile in modo tale da poter aiutare tutti coloro che soffrono di determinate patologie rare Erdi te la senti di mandare un saluto o vuoi dire qualcosa? Qualcos'altro? Allora, quello che mi sento di dire è godiamoci ogni istante della nostra vita con genitori, amici, famiglia, fidanzati, non c'è ogni che oggi ci siamo e domani non ci siamo